Fere, ma che cos'è questa cosa bellissima, scusami? Un giocattolo fighissimo, vuoi vedere come funziona? Un giocattolo fighissimo? Vuoi vedere? Sì, fammi vedere. Tu penserai, ah, sì, cammina e basta, bello, fa gli arcobaleni e finisce così, però guarda quello che posso fare. Stai volando? Sì, perlomeno ci provo. Ci provi, perché sappiamo che non sai guidare, ma stai volando? Esatto! Oh mio Dio. Fere, lo voglio provare! Fere, vieni a prendermi! Addio! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki. E io sono Stef, che stai giochiamo a Gmod? E oggi ragazzi, proveremo una cosa un po' nuova, perché siamo nel sandbox, ovvero nelle mappe libere, e proveremo tantissimi giocattoli, sì, proprio giocattoli. Esattamente, abbiamo scelto una mappa simile a quella dell'ultimo nascondino, infatti, se vedete è gigantesca e ci sono le giocattoli in giro. Questa però ha un sacco di stanze, molto più bella, molto più bella. Esattamente, poi ve la facciamo vedere un pochettino meglio, però oggi, appunto, non ci nasconderemo, ma testeremo dei giocattoli e delle costruzioni, armi, davvero delle cose super mega particolari. Allora, definirli giocattoli è molto riduttivo. Esatto, c'è di tutto, c'è di tutto, vedrete, vedrete, quello che ha usato Ferinichi prima è soltanto l'inizio. Sì, ovviamente, voglio dire una cosa, no, mi voglio vantare, aspetta, tutti selezionati da me, quindi se vi piacciono è merito mio, e se non vi piacciono è colpa di Stefano. Ma è come? Così, così. Come potrebbe poi essere colpa mia? Non si sa perché mi è colpa di Stefano. Io volevo dire, perdonateci se saremo mezzo morti, ma sono le 22. Questo è quello che succede quando vogliamo far uscire doppio video sabato, domenica, lunedì e martedì. Infatti siamo un po' stanchi, ma però ci proviamo, e poi dai, io sono infogatissima, non vedo l'ora di provare tutti i giocattoli, andiamo col primo? Sì, vai, vai, facci vedere. Allora, questo. Ok, allora io... Quello che abbiamo usato anche nel print. Posso guidare? Ora lo faccio usare anche a te. Ok, però aspetta, aspetta, devo togliere la terza persona. Ok, ma puoi salire come passeggero, vedi che ci sono dei posti. Ma no, aspetta, in effetti, perché farne due quando possiamo stare? Ma dove sono i due posti? Lì, nell'ala, nell'ala. Ah, è un posto. È certo! Oh, ho visto. Non capisce mai nulla. Allora, fammi capire un attimo, perché... Oh mio. Sì, no, fanno tante cose, non è che è solo una macchina bellina, puoi sparare, fare di tutto, o poi voli e fa l'arcobaleno, la cosa più bella. Io ho visto l'arcobaleno e l'ho scaricata, non sapevo nemmeno che sparasse. Posso andare in giro a sparare le persone. Riesci ad evocarmi delle persone da ammazzare? Forse sì, forse sì. Allora, cioè, ci provo anch'io. Un attimo, Consolini, torniamo subito. No, 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 aspetta, ci sono. Addirittura in tempo reale? Sì, perché ne avevo già uno in mente che io ho detto, vabbè, me lo tengo tra le cose selezionate perché può essere utile. Dov'è? Adesso lo è, aspetta, vado. Ok. Allora, praticamente sono degli uomini con le bombe. Se tu premi le freccette... Ok. ...loro corrono, li vedi? Ok. Se premi spazio succede una cosa, la vuoi vedere? Sì. Però adesso te li metto qua e li usi per spararli. Ok, allora, torna su da me, torna su da me. Dai, li mettiamo un pochettino così, va bene. Ma li hai fatti... Ah, perché premo per saltare? Aspetta, aspetta, mi siedo? Ok. Sì. No, non è colpa mia, è colpa loro che... Con tutta la calma del mondo, vai. Basta che... Non puoi sparare. Allora, ti tieni qua a fianco, li evochi. Esatto, non salgo con te, fallo da solo, vai. Ma io vedo solo le dinamiti al momento. Sto muovendo. Voglio vedere... Che poi esploderanno, visto che hanno le bombe. Esploderanno quando li spari oppure no? Non lo so, solo che è difficilissimo guidare. Sì, lo so, per quello... Vedi, tu mi prendevi in giro. Sì, allora, che succede? Oh, scusa, ho premuto spazio. No, li hai fatti morire tu? No, aspetta, aspetta. Li dovevo sparare, però. No, non succede. Aspetta, aspetta, aspetta. Tutto a posto, tutto a posto. Li rimessi? Adesso li rimetto, vai. Ok. Allora... Non mi posso muovere io questa cosa, vai. Vado in dice... Fai veloce, fai veloce, mi raccomando. Scendo, planando, guardate, sembro un supereroe, guardate che bello. Arrivo così e inizio a spararli. Ok, non esplodono, però li butti giù. Adesso che tu sei in mezzo... Boom! Non sei simpatica? Sì. Cose molto, molto particolari. Cose giganti e cose piccole. Partiamo dalle cose piccole, perché le cose giganti ti porto in un posto adatto a farle. Ti faccio vedere una cosa... Ok. ...che è solamente bella. Ok. Cioè, non altro, è solo bella. Ok. Non lo so, mi piaceva, mi piacciono le cose colorate. Ok. Tu li vedrai così e direi, ma che servono questi cubetti? Dai, non servono a nulla. Guarda, guarda cosa succede se io mi ci schianto sopra. Guarda, e puoi continuare così all'infinito e guarda che bellezza diventano. Vaci sopra, vaci sopra. Che figo! Perdono la gravità e diventano bellissimi. Guarda, e poi se li colpisci vanno più veloci, eh? Esatto, guarda, guarda cosa si forma, una specie di esplosione. Meraviglioso. Ma non è niente di troppo particolare, ma mi piaceva troppissimo. Figo, figo, figo. Prossimo, prossimo, prossimo. Ok. Allora, 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 il prossimo tecnicamente è davvero bellissimo. Ok. Aspetta, aspetta. Mi hai messo due? Ok, ok, ok. Allora, noi ci dobbiamo sedere. Ok. Fere, ma l'hai testato? No, no, però siediti. Fere. Allora, tecnicamente noi dovremmo diventare dei fuochi d'artificio. Ok. Non so come. Proviamo ad attivarlo? Ok. Vado. Vai. Ok, ok. Cos'è successo? Oh, mio Dio! Fere, si esplosa? Aspetta, 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 aspetta. Vado. Tieni premuto, vai. Ok, vedi? Ok, ok, ora si ragiona. Si ragiona. Lo sapevo che questo sarebbe stato fantastico. Che bello. Ma la follia. Ma dimmi te le cose che si trovano. Fere, vorrei qualcosa di un po' più tranquillo. Lo voglio riprovare, lo voglio riprovare. Dai, ti prego, lo voglio ripare. Aspetta che lo voglio fare in prima persona questa volta. Allora. Le sedie. Le sedie? Aspetta. Io l'ho fatto guardare allo stesso. Guarda che bello che... E lo vediamo un po' anche da... Aspetta. Io sono in prima persona stavolta, vai. Vai. Aiuto. No, no, si capisce nulla. È prima persona. È ancora peggio. Tutto a posto? Sta bene? Ok, 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 ok. Ne abbiamo altri piccoli o dobbiamo già andare nei posti giganti? No, no, ne abbiamo altri. Ah, meno male, meno male. Allora, questo è medio grande. No, dai, però lo proviamo fuori. No, no, proviamolo qua, dai. Medio grande ci sta. Allora, questo è davvero... Cioè, meglio fuori. Ok, vabbè. Mi fido, mi fido. Ti faccio provare però questo. Sei pronto? Ok, che cos'è? Che cos'è? Vai. È un divano? Sì. Primi è? Aspetta, 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 perché vado sempre in prima persona. Ok. Basta. Sei seria? Vieni qua vicino, vieni. Esatto, non serve ad altro. Guardami negli occhi. Ti ci puoi solo sedere. Finito. Ti stai divertendo? Molto. Pensi di essere spiritosa? Trovata apposta, trovata apposta. Ti pensavo che volasse, che facesse qualcosa di strano. Eh beh, dai, dopo tutte queste cose, però ci stava una cosa un po' più tranquilla. Ne ho un altro piccolissimo fantastico, aspetta un attimo che lo cerco. Ok, 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 va bene. Che cos'è questa? Non lo so. Praticamente si chiama Best Trap for Noobs, quindi la migliore trappola per gli scarsoni, mettiamola così. Ok. Bisogna premere il bottone, dovrebbe succedere qualcosa. Io non so che cosa. Fede, non lo voglio premere. Io vado, lo premo. Aspetta che mi allontano. Vai. E sono esplosa. E basta. Ma è stato tristi. Ma hai capito cosa fa? No, perché io ho visto solo tutto rosso e poi mi sono vista morta. Vieni e te lo faccio. Aspetta, aspetta, arriva. È molto carino. Guarda. No, vabbè, ma è geniale. Andiamo a fare un po' di giganti, poi nel caso facciamo qualcosa di piccolo alla fine. Sì, allora, qui c'è un portale bellissimo che ci porta in cortile. Abbiamo tutto lo spazio del mondo. Esattamente. Quindi benissimo, andiamo. Questa è la cosa della mappa, non l'abbiamo aggiunto noi. No, no, è così. Praticamente si entra qui e guardate qua. Quindi, oltre che poi in questa mappa magari la potremmo risfruttare, se piace molto tipo per un nascondino, per un gassù, perché è davvero grande. Sì, è vero, è vero, è molto, molto bella. Ok, andiamo con le cose giganti. Ok. Vediamo, te ne propongo una bellissima per iniziare proprio col botto, eh. Va bene, va bene, siamo pronti. Cosa sono? Montagne russe, cosa sono? Raggi, macchine. No, no, hai indovinato. Montagne russe. Aspetta, no, ti metto una vita perché è gigante. Sono queste. Ti piacciono? Oh mio Dio. Bello, vero? Oh mio Dio. Allora, ci possiamo sedere insieme. Ok. Perché è da 4, quindi ci si può sedere. Devi venire a fianco a me, cara, eh. Eh, no, non riuscivo a fare il giro. Vado. Andiamo. Eh, vai. Vai tu, vai tu. Scusa, non volevo. Non volevo fliparla, Ferre, scusami. Sta succedendo qualcosa che non dovrebbe succedere. No, non parte, eh. Non funziona. Ferre. Ecco, ce l'ho fatta. Ferre, aspettami. Non posso. Aspetta, aspetta, aspetta. La fermo, la fermo. Ahia. Torno indietro, aspetta. Scusa, eh, ti ho detto aspetta. Ma è così lenta? E che ti devo dire. È normale? Ok, sta accelerando. Non l'ho mai provata, non mi rompere. Ecco, ecco. Non mi ramento più. Allora, aspettate che vado anche in prima persona. Io sono in prima persona. E poi è lunghissima. Ecco, non è più lenta. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Dove stiamo finendo? Nei cerchi. Oh, mio Dio. Adesso ci sono un sacco di giri della morte. Non si capisce più nulla. Guarda questa parte, oh, mio Dio. Ok, qua rallenta, qua rallenta. C'è roba che io nella vita non farei mai. Sì, vabbè. Sarei già morto. Sarei già svenuto. Sarei già svenuta, proprio collassata, mi dovevano portare via con l'ambulanza. È normale che non ha una fine, eh? No, non lo so. Stiamo per precipita... È normale? Non lo so. Sì. Sì, sì. Ok. Oh, mio Dio. Ho avuto paura che per un attimo fosse buggata. Oh, guarda questo. Questo è bellissimo. Bim, bim, bim. È finita la nostra corsa. Stavo parassando. Ok, aspetta. Un giro basta avanza. Un giro mi basta avanza, guarda. Un giro basta avanza. Ok, ma con le giostre comunque sta più che non è finita qui, perché ne ho tantissime. Ma io sono un po' sordito. Possiamo fare qualcosa di più tranquillo un attimo? Un pony, non lo so. Sì, anzi sì. Ok. Sì, sì. Ma perché... Ti propongo questa cosa. Mi gira un po' la testa. Sei pronto? Sì, sì, però io sono sempre pronto. Io scommetto che questa è una cosa che hai voluto sempre fare nella vita. Ok. Lanciare un missile. Allora. Dov'è di che l'hai fatto partire? E dove va? Non lo so, aiuto. Dove sta andando? È esploso. Ti è piaciuto? Molto. Fede, ti avevo detto niente giostre. Altra giostra! Fede! Altra giostra! Ma sei pazza! Poi fare che altre cose? Guarda, mi posso gir... Dovrei girarmi in questa direzione. No. Qualunque cosa avresti fare se l'ho rallentato. Aspetta, posso andare nell'altro senso. Ok. Poi posso andare così. E puoi pure abbassare e alzare? Sì, vedi che sta abbassando. Alza tutto in verticale. Vai, ti voglio vedere in verticale. Continua e diventa una ruota panoramica. Guarda. Più o meno, più o meno, sì. Un po' troppo veloce come ruota panoramica. Un po' ti fa venire la nausea, cioè dovrebbe andare tipo... Vediamo se cosa dicevolo. Non ha funzionato. Sei un fail vivente, io te lo dico. C'ho provato, volevo fare una sorta di stunt. Comunque la vuoi anche provare in prima persona, che dici? Eh no, mi giro la testa. Dai, ti faccio provare qualcosa di un po' più... Voglio qualcosa di più tranquillo. Non lo so, allora, io cose tranquille non ne ho selezionato, quindi te lo dico già. Te lo dico già. Sì, io che cos'è di tranquillo. Stef, visto che non ti piacciono le giostre, non hai voluto neanche provare l'ultima che ho messo, ho deciso di... Rischiamo di vomitare. Ci dimmi. Di proporti qualcosa di un po' più tranquillo. Guarda. Un labirinto. Fede. È un labirinto. Ho una proposta. Dimmi. Ci prendiamo pugni dentro il labirinto? Se mi trovi. Ok. Io sono partito. Saltare in un posto, eh? Non mi fa saltare. Fede. Non mi fa così. Fede. Mi sono già perso anche io, in effetti. È un po' strano. Ma che bello che... È molto strano. E qua come si fa? Io sono tipo al piano di sopra. Ok, sì, sono salito anche io. Mi sa tanto che se no... Eccomi! Dove sei? Dove sei? Non vale, non vale, non vale. Io sono a pugni. Ah, vabbè, io avevo già quello. Ormai ti prendo a legnate. Ti stavo prendendo a pugni. Preferisci comunque i labirinti, ti piace? È bellissimo! Allora, io vorrei trovare l'uscita, ma non la trovo. Ti dico la verità. Prima o poi la troviamo, dai. Allora, non è di qua, perché salire non porta all'uscita. Quindi io vado di qua, poi giro qua. Qui non è. Allora, vado... No, mi sono perso davvero io qui dentro. Finalmente! Sono il capitano di una nave, Fere! Cos'hai fatto? Ho evocato una nave. Perché l'hai evocata? È bellissima, però... Aspetta, non riesco a salire, è un po' strana. Allora, un attimo... Oh mio Dio! Stiamo... Non te la dovevano dare questa cosa! Sono Steph, il pirata, con le nave volante! Sì, a voglia, a voglia. Tutti gli altri pirati mi tomeranno, perché nessuno ha una nave volante. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Sei spaventata? Guarda come precipitiamo adesso. Non troppo. Cosa stiamo facendo? Credo che stiamo scendendo di quota, non lo so. Allora, non mi far sbattere la testa. Cos'era quella? Una nuvola? L'ho un po' distrutta. Non volevo. Sono un pessimo capitato di navi. Sì, no, beh, beh. Sì, ci voglia anche abilità, evidentemente. In mia difesa sono abituato alle navi normali, non a quelle che volano. Tu hai qualcosa da farci vedere? Sì, un attimino sto cercando e arrivo. Sempre a farci aspettare qua. Ti posso vedere questo, allora? Ok, vai, vai. Guarda, questo è davvero gigante. Speriamo che vada, oh mio Dio. Scatto? Sì, sicuramente. What? È un intero parco giochi. Qui magari troverai una giostra che ti piace. Allora, aspetta che... Proviamo questi, guarda. Come ci sono? Sono delle cose strane. Mi sembra un po' preoccupante a me. Vieni, ti siedi. Ok, io sono seduto. Ma no, lo guidi con Wast. E vai in basso. No, no, aspetta, aspetta. Ecco, stavi andando senza di me. E vai in basso e in alto. Siano tutti i tasti strani. Oh mio Dio. Ciao, Fara. Finalmente una giostra che ti piace. No, questa è bellissima. Vedi che guidiamo noi? Sì, sì, fantastica. Ma sai che non mi fa salire? Mi sa che questa non funziona. Provoco ne? Niente? No. Però non mi fa salire neanche questo. Niente a me. Ascolta, basta. Fa schifo sto parco giochi. Cancellalo. Fallo scomparire. Brutto, 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 brutto. Bocciato, bocciato. Non mi ci piace. Steph, che fai? È la mia zattera. Non abbiamo mai finito la serie di Stranded Deep, quindi la sto continuando adesso. Non c'è più l'acqua. È perché Stranded Deep si è buggato. Avevamo l'isola trasparente e abbiamo perso tutto. Non c'è più l'acqua. Non ci sono le isole, ma continua la serie. Fai attento, c'è uno squallo. Uccidi lo squallo. Lo vedi? Sì, sicuramente, Steph. Ti stai divertendo? Allora, visto che tu mi hai fatto questo... Mangia un po' di cocco. Io ti faccio una cosa molto più bella. Allora, me lo levi su sto coso che non riesco a uscire. No, vai. Ecco qua. Allora, sali qua. È una catapulta? No, no, tu devi salire qua. Sì. Ok. Ma in questa cosa? Sì, credo di sì. Sicuramente non lo so, non l'ho provato. Tu sali là. Vai. Dove sei? Sei morto malissimo. Comunque, io direi che ci possiamo fermare così. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video. Nel caso, alle prossime volte, cerchiamo di dare un senso alle cose che utilizziamo. Cioè, nel senso, se è un'arma, magari mettiamo delle persone da ammazzare. Se sono dei veicoli, magari facciamo una pista dove fare una gara. Insomma, cercheremo di dargli anche un contesto. Questa volta era soltanto un piccolo esperimento che abbiamo deciso di fare alle dieci e mezzo di notte. Sì, adesso li abbiamo provati, diciamo, a casaccio in base alle cose che ci piacevano. Però magari sì, si potrebbero fare proprio cose più sensate, vere e proprie guerre con i giocattoli. Quindi, ci possono fare tante cose. Quindi, sondaggino, commenti, likes e ci fermiamo così. Beh, ragazzi, se riesce così, se ci piace, sentite un bel like. E se è la prima volta che avete il nostro video, potete considerare la lidea e iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!